Buongiorno a tutti, 7.08 in questo istante lunedì 30 ottobre ed è qui con me, tornato dopo una settimana di assenza Lorenzo Masieri. Eccoci, ciao Fabio e buongiorno a tutti. Guarda che erano tutti. Guess is back in town. Ciao a domani, grazie. Eccolo che è tornato. A me mancava, forse sbagliavo. Guarda che il nostro pubblico era in subluio. Ho sentito di svariati whatsapp 331 78535555 che richiamavano un po' diciamo l'assente, cos'è quando si richiama al, come si dice, quando fai l'appello, adesso non esiste più l'appello, ci sono i badge. Io già avevo colbeggio. A scuola? Sì. C'era il totem. Scusa, non c'è l'appello. Masieri, presente. Ma sai che quando c'è l'assente c'è il richiamo dopo. Pitacchio, presente. Non c'è Pitacchio. Ho sentito qualcuno a cui sono mancato, diciamo così, quindi vi ringrazio. Ci si chiede come sia possibile, ma se è mancato qualcuno. Manco in famiglia. Sì, sì, è vero. Tutte voi che siete in ascolto, soprattutto tutte voi che siete in ascolto, è tornato Lorenzo Masieri, contente. La voce calda. Tutte over 18 e under 30, mi raccomando. No, vedi, erano tutte over 65, ognuno c'ha le sue. Va benissimo. Iniziamo col sorriso, perché bisogna comunque sorridere, anche se, anche se, anche se, lo sapete, il weekend è stato forviero di una brutta notizia per tutti noi. La mia generazione è tantissima, non so se anche la tua. Anche a me perché ero grande fan della settimana. Ecco, ecco. Allora, vogliamo ricordare così Matthew Perry, perché è da ricordare, appunto, il Chandler di Friends. I'll be there for you di The Rembrandts. Il tema, il famosissimo tema di Friends. E così vogliamo, appunto, ricordare e salutare il grande Matthew Perry che, appunto, ci ha lasciato. È stato veramente un colpo per la nostra generazione, devo dire la verità. È stato un grosso, grosso colpo, va bene. Ricordiamolo così, ricordiamolo anche ridendo quest'oggi, perché, insomma, così forse avrebbe fatto lui, in questi casi. E forse, in questo caso, mai potrebbe essere così. Anche perché Chandler Bing era sostanzialmente, cioè, non lo stereotipo, andava a rispecchiare il carattere di molti tipi. Io mi ci rivedevo tantissimo in quel sarcasmo, poi, che poi diventa molto, che è molto, alla fine, anche molto romantico. Poi, sappiamo, vabbè, non facciamo spoiler, è uscita vent'anni fa. Quindi, più di vent'anni fa. Pensa che, pensa che in realtà è uscita, pensa. L'andavo ieri, ovviamente poi ieri un po' in casa mia si è visto tutto Friends tutto il giorno, ovviamente. Ma poi, soprattutto, siamo andati a vedere un po' così, no, le date. All'epoca, com'era strano, com'era di afferso il mondo delle sitcom e il mondo delle serie, no? La prima stagione esce nel 94, negli Stati Uniti. Arriva in Italia nel 97. Sì. Tre anni dopo, pazzesco. Eh, veramente. Adesso, fa un po' facciamo la gara, fa un po' prima qui che là, cioè, fa un po' le fanno in diretta. Il futuro sarà fare la serie in diretta, secondo me, no? Non succederà questo. Invece, pensa, una volta, tre anni prima di fare una serie qui, tra parentesi, arriva nell'estate, quindi tipo la puntata di Natale va in onda a luglio, una cosa del genere, una cosa che invece, vabbè, insomma, adesso sappiamo come si sta attenti anche a queste cose, no? Poi, Friends ha puntate di Natale in ogni stagione, è molto quella roba lì in puntazione. Eh, sì, sì, è il classico delle sitcom, tra appena il sitcom prodotto dalla Kaufman, che è la stessa anche di Seinfeld, quindi che richiamava un po' quello stile degli appartamenti uno di fronte all'altro, sappiamo appunto i due appartamenti. Soprattutto, siccome della mia generazione è molto più, diciamo, le cinque persone in una stanza, in un appartamento a New York non sono Friends, ma sono How I Met Your Mother. Giusto, giusto, sì, sì. Che alla fine, se vedete Friends, se vedete How I Met Your Mother, ci sono molte, molte similitudini, molti richiami. Non è un Friends dai tempi moderni, sono due robe diverse, c'è un approfondimento dei personaggi molto diverso in How I Met, eccetera, eccetera. Però recuperate anche Friends, se lo guardate in italiano, posso dire, secondo me alcune cose si perdono. Boh, io l'ho sempre visto in italiano. Eh, secondo me alcune cose si perdono e soprattutto non è... dà l'idea di non essere invecchiato proprio benissimissimissimo. Ci sono degli errori, diciamo, delle traduzioni che adesso non verrebbero fatte nella stessa maniera. Quello sicuramente. Quello sicuramente, sono delle cose stranissime. Nonostante i temi avanti anni luce. Sì, sì. Cioè, tema dell'omosessualità raccontato in maniera molto strana rispetto ad esempio ad oggi, dove magari staremo attenti ad usare parole più attente, più accurate, ma lì hai spiegato molto meglio rispetto a molte serie. Anche il femminismo in un certo senso. Queste ragazze comunque alla fine sono artefici del loro futuro e della loro vita. No, ma insomma, è una serie che io penso tutti avete visto. In realtà ieri ho parlato con una persona che non ha mai visto Friends. In Friends c'è anche l'utero in affitto alla fine. Sì, ci ho detto. C'è tutto quanto. Se ci ricordiamo cosa succede a Phoebe. C'è tutto quanto, ma anche all'inizio, riguardo la prima serie, si parla della coppia, l'ex moglie di Ross, che diventa lesbica, che fa una film... Cioè, quindi, capito, insomma... È vero, è vero. È veramente avanti, recuperatela. Adesso non so, sicuramente su qualche portale di streaming ci sarà. Sì, sì, su Netflix sono sicuro che c'è. Non ho visto se c'è anche su Prime, perché magari a volte... Ieri notavo anche questa cosa. Ci sono serie che trovi magari su tutti e quanti. Poi cerchi un film e non lo trovi su nessuna. È vero. E tu dici, ma io ho 18 abbonamenti. 72 acquisti. I noleggi tutti. E no, non trovi niente. Io sono il PR di un'app, della quale non farò però il nome, in radio, che ti permette, cercatela, di, mettendo il titolo del film, ti fa vedere, in base ai tuoi servizi streaming, se puoi accedere o no al film. E tu ti dici dove puoi trovarlo. Ok, andiamo a vedere il traffico, invece. Luce verde. Blu Monday, Oliver Eldens, è un Blu Monday anche per te, quest'oggi? È a gennaio, sto Blu Monday. Sì, no, può essere. Ognuno c'ha il suo personale Blu Monday, magari. Assolutamente. No, no. No, domani. Ma tu sei fatto una vacanza, una settimana di vacanza. Vacanza, vacanza, vacanza. No, sono stato male, ragazzi, e mi raccomando, non mettiamo in giro false voci. Sono stato male, però stavo dicendo, fuori onda, che in questa settimana, è stato un po' come tornare in quarantena. Io, Frenzo, l'ho visto in quarantena, appunto, mi ha tenuto compagnia a me e a un sacco di altre persone che l'hanno recuperato durante la quarantena. E io questa settimana, i primi giorni forzatamente a letto e poi comunque a casa, per forze di causa maggiore, ho recuperato un sacco di firme che avevo in ballo da tantissimo tempo che non avevo mai visto. Quarto potere. No, ho già visto. No, ok. Beh, tutta la filmografia di Bergman, no? Cosa hai visto? No, ho visto. Il laureato che non avevo mai visto. Capolavoro scade domani. Come scade domani? Sì, da domani verrà tolto sulla principale piattaforma che spedisce pacchi. Va bene, ok. Quindi guardatelo nelle prossime... Eh, non sapevo che Poste Italiane facessero stream. Guardatelo nelle prossime 48 ore. Vabbè, a parte che sicuramente l'avete già visto. Io, scemo, non l'avevo mai visto. Molto, molto bello. E poi, vabbè, c'è tutta quella vicenda lì del non sapere cosa fare dopo. Che, diciamo, sei 24 anni alla fine. Un po' ti ci ritrovi. Ho recuperato l'odio con Vincent Cassel. Uh, filmone quello. Bellissimo, un'ora e mezza concentrata. Bello, bello. Pesante, cioè, no, pesante nel senso, cioè, proprio pesante dal punto di vista emotivo. Cioè, è difficile da stare lì e fermo, cioè, ti tira su un'adrenalina che è una roba pazzesca. Però è da vedere. E poi c'è la scena finale con quei, poi, cinque minuti dopo che tu guardi così lo schermo e ti fai i tuoi pensieri. Sì. Della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Ah, quello è lo scorso Capodanno, ho fatto io. Tutto quanto Batman. Ma il primissimo fino all'ultimo. Da quello del 66. Sì, sì, no, proprio da tutti quanti e poi fino appunto a Nolan. Questo due dei tre, sì, belli. Perché il terzo non l'hai visto? Perché poi sono andato su altro. Comunque sono fin da tre ore l'uno, eh. Sì, sì, infatti, fa un po'. E poi basta, mi sembra. Basta? Mi pare di sì, ho recuperato qualche cosa. Ah, ho visto un John Wick. Non so neanche cosa sia. Quello con Kenyon Reeves, che è una spia russa. Ah, ok, no. Ma niente di che. C'è niente di che. Non pratico quelle robe lì. Con tutto il rispetto per Kenyon Reeves, che so che ci ascolta sempre. Eh, sì, sì, ci ascolta sempre. Vestito da Neo ci ascolta. Si mette come vestito da Neo e ci ascolta. Allora, quindi questa era una breve assegna stampa dei film. Ma adesso torniamo. Una segna stampa, delle notizie. La segna stampa vera e propria, delle notizie. Allora, ti dico subito che... Posso interrompere, poi intanto ne abbiamo le notizie. 331-78-53555. Il nostro numero di Whatsapp. Lo dico veloce, ma intanto lo trovate sul sito, lo trovate sull'App, lo trovate ovunque. 331-78-53555. Arrivano i messaggi per te. Vedi? C'ha scritto Alberto. Bentornato, Lorenzo. Grazie, grazie. E poi una buona settimana a Fabio e tutti i cristallini, quindi a te no. Ah, perché no? No, perché a te sono bentornato. A me buona settimana e non mi spiavo. Non è che per prendere due saluti insieme. Non è che puoi, capito? È vero, è vero. Comunque, anche voi, se volete dare il bentornato a Lorenzo o raccontarci quello che avete fatto mai questo weekend, perché Lorenzo non c'è niente da raccontarci di aver fatto questo weekend, a parte vedere film, non hai fatto niente, non sei andato a mangiare da nessuna parte. No, questo weekend è molto tranquillo. Quindi aiutateci voi, allora. Dove siete andati questo weekend? Non siete andati a mangiare. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Pensa che la buona Tamara Maleo, che ci parla di teatro tutti i giovedì, giovedì aveva preparato apposta per te dei momenti teatrali e culinari messi insieme. E io non c'ero. E tu non c'eri, vabbè. Gli richiederemo questa settimana quando tornerà giovedì. Anzi, non ricordiamoci che gli appuntamenti fissi ci sono sempre. Oggi che avremo? Oggi abbiamo Filippo Poletti, Top Voice di LinkedIn, con la sua rubrica Buon Lavoro per dare le buone notizie per iniziare la settimana lavorativa. Ci pensiamo domani, Angelina Mango. 7.34 minuti, Crystal Radio, come sempre, Good Morning Milano. Insieme ho finalmente tornato anche Lorenzo Masieri. Eccoci tornati, ma so che comunque in tanti ti hanno sentito la settimana. Sì, lamentavano la tua assenza. No, no, no. No, ho seguito, ho seguito anche da casa. Allora, come... Come? Non in diretta. Ma... Spiega quindi ai nostri... A Roma direbbero con... Come hai fatto a sentirci anche quando... Gli ho seguito perché poco dopo, pochi minuti dopo la nostra diretta, troverete già sul profilo YouTube di Milano All News la registrazione appunto della diretta spezzettata in cui appunto potete vedere tutti i nostri interventi, ma soprattutto, molto più interessante, ospiti e interventi di persone che non sono le due voci che vi assillano dalle 7 alle 9. Ricordiamo sempre 331-78-53-555 per scriverci e ricordiamo che siamo in DAB+, in streaming, sull'app, sul sito, in FM soprattutto 96.2 e appunto contenuti social appena finisce la trasmissione con tutti gli ospiti e gli interventi vari. Poi comunque rimangono lì e quindi tu te li ascolti anche non pochi minuti dopo, lo sappiamo benissimo, ma ore, ore dopo la diretta. Allora, io i primi giorni mi svegliavo presto perché non stando bene mi svegliavo presto. Giusto, giusto, giusto. Anche perché passavo tutto il giorno a letto quindi era veramente difficile. Giusto, giusto. Ma andiamo con le notizie, dai, andiamo con le notizie allora che so che ce ne sono un po' quindi so che devi dare, ma c'è anche il libricino stamattina. Cosa punti. Volevo iniziare semplicemente dicendo che mi è spiaciuto non esserci settimana scorsa perché lunedì ho letto delle cose sui social e siccome so che piace molto ai nostri radio ascoltatori quando parliamo, quando leggiamo le reazioni social, ricordiamo che domenica scorsa c'è stata la Mille Mila Bici, prima edizione della biciclettata organizzata dalle Gambiente Comune eccetera 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 con tantissimi comitati alla fine e avete visto che la foto che ha fatto il giro del web eccetera era sostanzialmente la massa di persone di biciclette sul ponte della Ghisolfa. Sì. L'hanno ripubblicata tutti, testate giornalistiche eccetera e anche la stessa amministrazione quindi nei suoi vari esponenti, Maran, Grandi, Censi eccetera eccetera, sapete benissimo se ci seguite chi sono. Cosa succede? Ed è che ho visto una marea di reazioni da parte delle persone, dei comitati sostanzialmente che fanno testa ai comitati in cui diciamo non usavano, non approvavano questa, come si dice, questo intestarsi. Intestarsi? Si può dire? Si, si, si. Intestarsi la vittoria delle biciclette da parte dell'amministrazione perché Pierfrancesco Maran ha messo un post dicendo, commentando la foto appunto dei ciclisti sul ponte della Ghisolfa dicendo cambiare la città con e per loro e quel post lì è stato preso e ripostato scrivendo le peggio cose. Io lo dico, mi è spiaciuto non essere qua a commentare. Comunque andate a rivedere, quel post lì di Maran è stato veramente preso e ripostato e commentato in una maniera incredibile. Però grande partecipazione, lo diciamo anche all'istanza di una settimana, grande partecipazione. Annunciamo già, annunciamo, riportiamo il fatto che probabilmente il 10 novembre ci sarà un altro sciopero, lo diciamo subito, è ancora tutto da definire, fasce orarie eccetera eccetera, mentre oggi, ma ne parliamo subito dopo, lo anticipo già, cambiano le regole per area C, secondo blocco di nuove misure. Un signore, anche a mozza, un sito con 800 cose da segnare e da imparare, va bene. Arcomi, Irama, Shablo, vanno a Hollywood. Ed era una lista, una lista caro Lorenzo, so che prima di andare con la canzone di Lorenzo mi ha riguardito Redarguito, Redarguito scusate, Redarguito, perché è una lista. Ma questa era Hollywood, la cantano Irama, Arcomi e Shablo, ma niente featuring. No però non c'è stata intesa, essendo una lista di persone, parliamoci chiaro, adesso sei canzoni sono tutte delle liste. Irama, Arcomi, Shablo, così eh, così, che comprono il biglietto e vanno ad Hollywood. Secondo me era quello, il concetto era, facciamo sto weekend, andiamo a Hollywood. Cosa facciamo sto weekend? Sto weekend ha piovuto Fabio, no? Sto weekend ha piovuto anche a Hollywood? Cioè, in realtà non ha piovuto, il sabato era bello. No, no, più vigile, sì, più vigile no, non si capisce, fa caldo, fa freddo, non si capisce più niente. Non ci sono più le mezze stagioni. Si stava peggio, allora, intanto siamo andati a rivedere un po' i commenti sotto il post di Maran, vi invito a recuperarlo. Ovviamente il post di Facebook, eh, perché diciamo, il meglio vi è andato lì, cioè, gli estremi non è niente, il confronto, il meglio vi è andato su Facebook. Domenica scorsa, dico solamente, cambiare la città con e per loro, hashtag millemilabici. E sotto la foto. E sotto la foto dei ciclisti sul Ponte Aghisolfo, leggete i commenti e divertitevi un pochettino. E appunto, abbiamo detto, per il 10 novembre, forse lo sciopero, forse no, si vedrà, non ci sono ancora le fasce di garanzia, né niente. Ma ciò che è sicuro è che oggi, altra piccola rivoluzione, per quanto riguarda la mobilità milanese, perché entra in vigore la seconda tranche di pacchetto. Sì, sì, dopo il Covid si parla di pacchetti, pacchetti, pacchetti. A me sembra solo un pacco, a volte. Da oggi, area C più cara, i parcheggi limitati. Infatti, da lunedì 30 ottobre, sto leggendo Milano Today, in area C, a Milano inizia una nuova mini rivoluzione. Il ticket per entrare nella ZTL passerà dai 5 a 7,50 euro, mentre il ticket per i veicoli di servizio passa da 3 a 4,50 euro. E sai una notizia, qual è, divertente? Qual è? Che oggi il sito NRC è sospeso. Ah. Perché per manutenzione, domenica 29 e lunedì 30 ottobre, saranno sospesi. Però c'è tempo, infatti, fino a mezzanotte di martedì 31 ottobre, per regolarizzare i transiti di oggi, ok? Ma no, è come quando la Apple fa la conferenza e annuncia nuovi prodotti che toglie quelli precedenti. Mette offline il sito, coming soon, è così. Quindi, in realtà, no, però non intemati, se oggi dovete andare in NRC e non riuscite, è normale, ok? Si può attivare tutto, perché tutto è sospeso, eh? Sito, canali sms online, Lispey, Munei, tutto con Bancomat, San Paolo, tutto quanto. Anche i parcometri non sono aggiornati lì, non puoi pagare neanche le parcometri oggi. Puoi farlo domani. Ah, sarà curioso sapere se ci saranno delle, come si può dire. Quello che mi fa ridere è che tutto questo, invece, Telepass, Paypal funzionano. Ho scritto così proprio. Tutto sto casino, poi, da fine, i due vanno, vabbè. Vabbè, questa settimana, però, settimana di mal tempo, infatti, riportiamo il fatto che sia stata diramata l'alerta gialla per rischio idraulico a Milano. Appunto, sappiamo che il metodo è particolarmente ballerino e questa settimana non sembra per nulla clemente, per usare un lefinismo. E quindi ci sarà da prendere la macchina, molto probabilmente. Molto probabilmente ci sarà da prendere la macchina. Per quanto riguarda, invece, la vicenda parcheggi, appunto, che stanno in tema mobilità, per quanto riguarda l'area C, io vi dico, andate a leggere sul sito. Quando le cose si fanno un po' più complicate, andate a leggere sul sito. Mi posso dire che è complicato anche sul sito? Ah. Perché non lo sto trovando. Posso dire che non mi aspettavo diversamente, mettiamo la doppia legazione. Mi aspettavo un bel bannerone, cosiddetto, nuove regole per l'area C, invece, no, non l'ho ancora trovato. Il bannerone. Sì, no, non l'ho trovato. Ho trovato, cioè, la manutenzione del sito di l'area C, ma non ho trovato altre cose. Vabbè, poi adesso le cerchiamo, le cerchiamo. Andiamo con un po' di musica, intanto? Vai, vai, vai. Lei è Gaia. L'ho detto normale. Non vuole di zanzare. Lei non è analista, è da sola. Brava, Gaia, che sei da sola. Brava. Gaia, nuvole di zanzare a 7,48 minuti. Continuiamo con le notizie che arrivano dai giornali. Andiamo ad aggiungere qualcosina alla notizia precedente, perché appunto il Comune di Milano pubblica su Facebook il Centro di Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, emanato una letta gialla, quello che stavamo dicendo prima, per rischio idrogeologico sul territorio di Milano a partire dalla mezzanotte di ieri, fino a, no, a partire dalla mezzanotte di ieri, fino a non si sa. Ad libitum. Fino a che c'è brutto tempo, scusami. Ma non lo vedi, giustamente la previsione meteo, e poi quando finisce lo vedi da solo. Avevo letto male. Giusto, giusto, giusto. Non avevano dato questa cosa. Intanto il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli, dei fiumi, Seveso e Lambro, per coordinare eventuali interventi. Ci sappiamo benissimo cosa succede quando piove tanto a Milano. L'associazione Agiamo denuncia i ritardi nel riparare le recinzioni per tutelare i giardini pubblici Indro Montanelli di notte, perché segnala sostanzialmente che è soggetto a degrado notturno il parco. E quindi l'associazione Agiamo denuncia questi ritardi per riparare i cancelli e recinzioni che sono state danneggiate dalla famosa tempesta della notte del 25 luglio. E invece parliamo di buone notizie adesso, Fabio. Eh sì, parliamo di buone notizie, parliamo delle buone notizie legate al lavoro, e anzi ci dà il suo buon lavoro. Come tutte le settimane di lunedì, Filippo Poletti, top voice di LinkedIn, ricordiamo tre milioni di follow, una roba pazzesca. Lo seguono sempre perché? Perché lui tutti i giorni dà le buone notizie sul lavoro. E lunedì ci fa un po' il riassunto di quello che è stato e magari di quello che sarà. E allora diamo subito la linea a Filippo Poletti con il suo buon lavoro di oggi. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è flessibilità. Vuoi lavorare da casa? Fallo! Vuoi lavorare dall'ufficio? Fallo! È il modello super flessibile introdotto da ING, che ha meritato da parte di Rina la certificazione di parità di genere. Un modello, quello, punto in uso a ING, praticato già da diversi anni. E' interessante anche il Live Feed Master di ING, ossia un master dedicato ai genitori con figli fino a tre anni. La seconda parola chiave della settimana è asilo gratis. Ne abbiamo già parlato altre volte e qui a buon lavoro ne riparliamo. In questo caso il protagonista è Credit Agricole. Dal primo gennaio del 2024, ha spiegato il CEO Gian Piero Maioli, i genitori avranno diritto al rimborso del 30% della retta di asilo, ovviamente per i figli. E ha aggiunto una nota molto importante, Maioli, riguardo le progressioni di carriera. Lui ha detto, ebbene, per far crescere le donne in azienda bisogna che ci siano capi donne. E ha proseguito, ve lo leggo, che ragionino con i criteri valutativi di una donna. In sostanza, se a giudicare le progressioni di carriera sono uomini, come si fa a garantire che ci siano progressioni di carriera anche per le donne? Punto di domanda. Alle aziende la risposta. Terza e ultima parola chiave della settimana è Forte Milano. Arianna Renzini, 31 anni, ricercatrice di astrofisica, corteggiata da tutto il mondo. Ebbene, Arianna ha deciso di rientrare in Italia e di lavorare all'Università di Milano. Bicocca le ha detto, non sono tornata solo perché amo il mio paese, ma perché credo che chi pensa che la ricerca possa essere fatta solo fuori dai confini dell'Italia, appunto, sbaglia. Quindi, brava Arianna, bentornata. Arianna ha pensato un po' premio L'Oreal Unesco per le donne e la scienza. In tempi in cui si parla tanto di fuga dal nostro paese, di cervelli in fuga, ebbene, noi diciamo, parliamo anche dei punti di forza di Milano. Dunque, buon lavoro a tutti e anche buon inizio di novembre. Nacom Wood, questo. Nacom Wood? Eh beh, sì. Sul legno. Se legno, sì, sì. Tocca a Nacom, sì, c'è, bussa, bussa sul legno. Nacom Wood. Emi Stewart. Grande pezzo, grande pezzo. Grande pezzo. Grande pezzo. E cogliamo l'occasione. Per ringraziare Filippo Poletti e la sua rubrica Buon lavoro, che troverete, come sempre, pochi minuti dopo la fine della puntata, sui nostri social, in particolare su LinkedIn, perché è il social alla fine di riferimento di Filippo Poletti. Eh sì, sì, sì. È il suo mondo dove appunto con i suoi top voice, cioè insieme ai vari top voice di LinkedIn, uno di quelli più importanti, che appunto raccontano il mondo del lavoro, il mondo del lavoro su quello che appunto è il social, perché appunto è un social anche LinkedIn, si dice così. Ah, certo. Giusto, ma anzi. E secondo me ultimamente è anche uno di quelli che sta riprendendo quota, così, si vede abbastanza pompato dalle varie situazioni. Sì, dipende, cioè, dipende alla fine da quello che fai. Sì, sì, sicuro sì. Molte aziende stanno... Posso dire, le varie imprenditrici digitali, è chiaro che lo useranno molto. Sì, sì, sì. Anche se è il grosso alla fine. Purtroppo, per fortuna, come sappiamo, se lo si fa su Instagram. Ebbene sì. E lo vediamo con un po' di musica invece. Adesso è il momento di Adele, con una canzone, la canzone dello scorso anno, quella che diceva, oh mio Dio, si chiamava così. Belen che canta. No, è Adele, non è Belen. Belen canterebbe, oh mio Dio. Invece no, Adele canta, oh my God. Oh my God, Adele alle 8.09 qui su Crystal Radio. Adele, oh my God, 8.13 minuti, lunedì 30 ottobre. Buon lunedì a tutti ancora qui dalla redazione di Milano News. e Good Morning Milano in diretta, come sempre, dagli studi di Milano News in quelli San Siro per una nuova puntata di Good Morning Milano, qui, come sempre, su Crystal Radio. Al completo, al completo. Al completo, al completo. Ricordiamo, 331-78-535-555, velocissimo, ormai sono diventato velocissimo. Sì, infatti, farlo più lento. 331-78-535-555 per scriverci su WhatsApp. Ricordiamo, in FM, 96.2, streaming da Plus, sito app, e se ci volete vedere, ci potete vedere, mi era mancato dirlo, su il profilo YouTube di Milano News, in cui siamo in diretta, e dopo poco trovate già la puntata registrata. Riprendiamo con le notizie, perché ieri sono stati inaugurati al quartiere Gallaratese, cinque nuovi murales bellissimi, che ricordano un po' quelli sulle facciate dei palazzi a Napoli da giovanissima. Sì, 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 chiaro, chiaro. Molto, molto belli, andateli a vedere. Cinque, sono cinque temi diversi, c'è lo sport, la casa, quindi l'abitare, eccetera. Non sto a leggere tutti per bene, ma guardateli. Sono cinque, sono giusto? Sono cinque. E mi manca ancora uno. Guardateli che sono bellissimi. Devono ancora fare il sesto. È una battuta? No, no, è quello dedicato a noi. Ah. Ci sarà un murales dedicato a noi. Sì. Il Morning Show of Milano. Ne servono tre. Good Morning Milano. Il Morning Show di Milano, sì. Per fattere la mia facciona, sì, è vero. E poi, no, e poi liberi tutti del governo sui Deora allungato fino a fine 2024. Ira della Giunta Sala, sto leggendo la Repubblica Milano, perché il governo è pronto appunto a prorogare, per un altro anno la deregulation, è concessa. Cos'è che provoca? Sì, sì. La deregulation? È giusto. Sì, sì, no, no, mi fa ridere. La deregolamentazione. No, no, mi fa ridere. Concessa durante l'emergenza Covid, l'assessore Granelli basta norme sulle competenze dei comuni, soddisfatta invece chiaramente l'associazione dei pubblici servizi. Altra cosa che mi è spiaciuto non commentare, che mi è spiaciuto non commentare la settimana scorsa, appunto perché ero a casa, è il fatto che sabato sera scorso l'assessore alla sicurezza Marco Granelli del comune di Milano, intorno all'una, ho letto forse proprio dalla Repubblica, che si aggirava per le strade di Vialecco e comunque zona Porta Venezia, perché era uno dei primi weekend test per la chiusura dei Deora anticipati, per sostanzialmente i decibel troppo alti. Ma quindi adesso, come funzionerà questa cosa? Il governo dice che si possono tenere aperti. il comune non li vuole, chi comanda su chi? Adesso è complicato, però l'immagine di Granelli che con l'impermeabile va in giro. Con l'impermeabile va in giro? Sì, mi pare di sì. Tipo Hope of Gadget, così. Per Vialecco a controllare che tutto vada correttamente, ho letto all'una e mezza tutti hanno chiuso, cioè hanno chiuso, hanno chiuso i Deora, alcuni sì. Chi ha la possibilità? Comunque allora, e se non va è perché non va? E se va è perché va? Non siete mai contenti comunque. Ma no, è una battuta, ma perché all'una mi fa ridere che l'assessore della sicurezza sia per le vie della Movida milanese. Ma magari si dava anche lui la Movida, finalmente. Un po' di divertimento anche per lui. E tra l'altro stiamo cercando, ti avviso, di avere al telefono qualcuno delle associazioni degli esercenti di Vialecco, che appunto sono sostanzialmente penalizzati da questa cosa, avendo sostanzialmente dei locali interni piccoli e lavorando tanto sui Deora. Sull'esterno. Benissimo, continuiamo con la musica. Adesso è Tedua con Red Light alle 8 e 17, qui su Crystal Radio. Good Morning Milano. E ora è arrivato il momento dei nostri ospiti, giusto Lorenzo? Il momento dei nostri ospiti. Oggi abbiamo i nostri micofoni. Federica Valcauda, segretaria dell'Associazione Enzo Tortora Radicali Milano. Buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, seconda ora, sappiamo benissimo che è l'ora degli ospiti. E oggi siamo qua con Federica per parlare un po' appunto delle loro iniziative sul territorio milanese. Ma prima spostiamoci giusto qualche chilometro fuori da Milano, perché siamo obbligati a chiederti... Eh sì, non si può parlare con i radicali... Diciamo la pensa male, non si può parlare con i radicali senza parlare di quello che è successo a Monza. E senza parlare, esatto. Allora, c'è poco da dire, nel senso che certamente la Monza e Brianza sono anche storicamente un feudo della destra per ovvi motivi. La campagna che ha fatto Marco Cappato, dal mio punto di vista, ha segnato anche, visti i numerosi militanti, no? Che c'erano con lui, abbiamo fatto una battuta con una cara amica l'altro giorno, è stata la campagna elettorale dove ci sono stati più militanti per una persona che persone che andavano al voto. Perché poi è questo il punto centrale, no? Il 12, qualcosa per cento delle persone, dei cittadini, sono andati a votare. Questo dato è assolutamente preoccupante, così come è preoccupante il dato di un anno fa sulle elezioni politiche, dove c'è stato un crollo vertiginoso, insomma, io... In più, possiamo dirlo, tutti si aspettavano una grande vittoria del centro-destra, che in realtà non è arrivata. Il cosiddetto seggio blindato, con queste leggi del centro-destra che c'erano i seggio blindati. Percentuali bulgare, no? Sì, quelle cose che si dice, poi in realtà non è stato così. In realtà non è stato così, poi sono sempre i due dati, almeno, che guardo io. Quello dei voti proprio assoluti e la percentuale, perché ovviamente le due cose spesso, cioè le percentuali sembrano sempre a volte più larghe di quelli che sono i votanti effettivi, cioè i voti effettivi dicono appunto che c'è uno scarto minimo. Eh sì, sì, sì. Scarto minimo e poi, concedeteci, diciamo, campagna elettorale, diciamo, fatta di astucci del Monza, risotto colore... Sta cosa di astucci del Monza non è andata giù, va bene. Non è andata giù a nessuno. Gagliani io mi dissocio, lo dico già... Farò una stoccatina al Partito Democratico, al sindaco Pilotto, che è il sindaco di Monza, che è andato con Gagliani a consegnare queste astucci. Ecco, credo che in campagna elettorale una cosa che i sindaci non devono fare è prestarsi a questa tipologia di operazioni. Ma diciamo che qualcuno, forse la sinistra è molto brava a farsi anche questi autogol, quindi devo dire che complimento... Cioè, diciamo che è in linea, eh, con una certa sinistra che sappiamo e conosciamo bene e che sappiamo essere molto bravi negli autogol. Parliamo appunto di Monza, anzi, di Monza basta, chiudiamo questo capitolo. Parliamo poi, soprattutto, invece di che cosa fa appunto, cosa fanno l'Associazione Enzo Tortora Radicali Milano sul territorio, perché lo fa spesso richiedendo e parlando con i cittadini, giusto? Assolutamente, l'Associazione Enzo Tortora esiste, quest'anno è il 35esimo anno, stiamo andando verso la 35esima assemblea, un tempo molto lungo che ovviamente politicamente coincide anche con l'attenzione rispetto ai diritti civili, quindi alle carceri, all'immigrazione, alle questioni relative alle droghe evidentemente e anche a livello comunale si può fare, si possono fare delle cose, no? Noi sappiamo che, ad esempio, il tasto unico sugli stupefacenti è un monolita granitico, questa cosa qua però può modificarsi a livello regionale e comunale, noi su questo tentiamo di fare informazione e poi in questi giorni, anzi in questi mesi, da luglio stiamo facendo firmare per le strade di Milano sei proposte di legge a livello nazionale di radicali italiani che, almeno dal mio punto di vista, sono centrali anche per Milano e la Lombardia, ne cito solo due, la proposta di legge sul reddito minimo di inserimento, su cui abbiamo fatto una manifestazione davanti alla Carità Sanbrosiana la scorsa settimana, e la legge anche sulla tutela del suolo. Sono usciti i dati ISPRA tre giorni fa, sono dati estremamente preoccupanti a livello nazionale perché il consumo di suolo è aumentato e Milano, soprattutto territorialmente, Milano e Lombardia. Allora noi vi rimandiamo a fra poco, nel senso che io penso che questa intervista che avremo è pensala come la pensi, ma sicuramente i radicali sono uno di quei movimenti che ha portato certi temi prima di altri a parlarne, poi puoi essere d'accordo o d'accordo, chi se ne frega, ma intanto parliamone. C'è da ammetterlo. Infatti c'è da ammetterlo, c'è da parlarne. Quindi cercheremo di sviscerare questi discorsi e soprattutto anche queste proposte di legge che poi anche lì, se sei d'accordo o non d'accordo, ma cerchiamo di capire bene di cosa si tratta. Adesso andiamo con un po' di musica, poi una piccola pausa e torniamo subito qui di nuovo con Federica Valcauda della Segreteria Associazione Enzo Tortore Radicali, Milano. Che colpa ne ho? Fra Quintale, Coez, che colpa ne ho? No, sono loro due, sono solo in due questa volta, stramovevo. Che colpa ne ho? Quello che mi chiedo tutte le mattine è io per averti qui di fianco. Ah, grazie mille. Ti piace. La settimana scorsa che non c'era, intanto la presenza si è fatta sentire anche dai messaggi che sono arrivati al 331 78 53 555. Continua. Ora, ora degli ospiti, come si dice sempre. Siamo qua con Federica Valcauda di Associazione Enzo Tortore Radicali, Milano. Abbiamo già parlato un po' di Monza, eccetera. Appunto ci stiamo anticipando che state portando in giro sei proposte di iniziativa popolare. E tra queste ce n'è una, appunto in contrasto alla povertà, di cui ci parlavi un po' prima. Adesso ne parliamo meglio. È chiamata reddito minimo di inserimento, giusto? Reddito minimo di inserimento e riforma delle prestazioni sociali. Nome complicato, ma che si può tradurre in? Allora, si può tradurre nell'analisi che è stata fatta puntuale rispetto ovviamente alla situazione italiana attuale. I dati che ci sono arrivati, in particolare negli ultimi due anni, 2021-2022, e dopo il Covid ci dicono che l'economia non si è ripresa, è sempre più complesso trovare lavoro. Esistono dei nuovi problemi, che in realtà non sono nuovi. Qualche anno che girano anche tra la rete e se ne parla, però sono, diciamo, poco focalizzati. Dal rapporto Caritas 2022 si vede chiaramente come il numero di persone che vanno a chiedere aiuto in questi luoghi sia aumentato anche nella fascia dei lavoratori. Cioè ci sono lavoratori full-time o part-time che non riescono ad arrivare a fine mese e vanno a chiedere aiuto a questi luoghi. Quindi non è solo una questione di disoccupazione to cure, ma è anche una questione relativa ai salari, perché molto spesso le persone non riescono ad arrivare alla fine mese. Come che li chiami sempre tu, Lorenzo? Non è che l'hai inventato tu il termine, ma che è il termine corretto, dicevi? C'è la differenza tra la soglia di povertà, appunto, e la povertà relativa, e quelli che abbiamo chiamati i lavoratori poveri. Esattamente, esattamente. Il concetto è che non basta più avere un lavoro. Una volta avere un lavoro e stavi bene. Mi permetto di aggiungere, essendo Cristal Radio Milano, in particolare in una grande città come Milano. Sì, 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 giusto. E infatti, visto che mi hai dato l'assit, invece, l'altra proposta di legge è una legge sulla tutela del suolo, dicevi, no? Esattamente. Perché, ripetiamo bene, quel dato ISPRA, giusto? Esatto. Il dato ISPRA che cosa dice? Dice che, sostanzialmente, Milano è la seconda città, dopo Verona, ad aver aumentato ancora di più rispetto all'anno precedente il consumo di suolo. E questo dato è in aumento costante ogni anno. Ogni anno noi, dai dati ISPRA, vediamo che Milano consuma sempre più suolo. Non solo Milano, ma anche la Lombardia. Quindi questo sta diventando un problema generico. Su questo so, ad esempio, che il Partito Democratico sta facendo una buona opposizione in Consiglio regionale, perché, insomma, il piano della gestione territoriale è del Consiglio regionale. Quindi, molto spesso, capita che le regioni vanno un po' dove vogliono. Quindi, serve assolutamente una legge nazionale, così come l'hanno moltissimi altri paesi europei. Noi, come al solito, su questo arriviamo sempre un po' in ritardo. E voi, quindi, appunto, avete fatto questa proposta di legge... Che si può firmare. Servono 50.000 firme. Spiegaci un po', appunto, come funziona questa cosa del firmare le firme. Non sono, allora, perché, diciamo un po', siamo famosi in Italia per le famose firme dei referendum, ma non è quella roba lì. È una roba diversa questa, giusto? Allora, l'attivazione dell'articolo della Costituzione è sempre lo stesso. È l'articolo che permette la partecipazione attiva delle persone. Ci sono vari strumenti, il referendum, che ovviamente si conosce molto di più anche per le storiche battaglie che si sono vinte, ma c'è anche lo strumento delle proposte di legge di iniziativa popolare. Un conto è fare una petizione, firmare su internet, il change.org, eccetera. Un conto è avere dei moduli, avere una certificazione comunale e dover raccogliere 50.000 firme, che rispetto alle 500.000 dei referendum possono sembrare poche. Però, ovviamente, col referendum si sa che poi, insomma, si va a votare, si va alle urne. Il coinvolgimento delle persone è un altro. Sulle proposte di legge c'è meno coinvolgimento, anche perché il Parlamento attua, cioè porta avanti degli ostacoli democratici in modo sistematico. Se ci sono delle proposte di legge, come ad esempio quelle proposte dai radicali, legalizziamo sulla legalizzazione della cannabis 2016 e la legge sull'immigrazione e lo straniero, su cui si sono raccolte 70.000 firme in entrambi i casi, sono rimaste lettera morte in Parlamento perché nessuno dei parlamentari si è degnato di dire, ok, quali sono le proposte con una firma fatte dai cittadini che possiamo discutere. Quindi non esiste l'obbligo di discussione e questa cosa è gravissima. Allora ti faccio questa domanda, Federica, e immagino che tu abbia però la risposta. Perché continuare però a farle? Eh beh, perché continuare a farle? Perché io parlo di sentimento, perché credo che la politica non si possa fare in altro modo, se no uno, insomma, si occuperebbe di gestire un'azienda, ecco. Quindi è il sentimento che porta a dire questa cosa qua non va bene e nonostante tutti gli ostacoli e i paletti che vengono posti continuiamo a denunciarla finché, cioè con la speranza che prima o poi arrivi qualcuno pronto ad accogliere queste denunce, queste istanze e speriamo che arrivi presto. Ecco, Marco Cappato in Senato sarebbe stato un elemento di opposizione estremamente importante per il nostro paese. Assolutamente, e appunto, siccome hai detto, se no si passa più per manager che per politici, mi permetto di raggiungere che a Milano, secondo me, secondo me, nelle posizioni all'amministrazione, eccetera, ci sono molti più manager che politici. E alle 8 e 38 minuti di oggi, Lorenzo Masieri sgancia la bomba! Monguzzi sarebbe d'accordo con me, Carlo Monguzzi sarebbe d'accordo con me. Adio, Carlo Monguzzi! Anch'io credo che Carlo Monguzzi sarebbe d'accordo con te. E sarebbe una delle poche volte che è d'accordo con qualcuno, mi viene da dire anche, mi viene da dire anche, cioè attenzione. Anche perché appunto si parlava appunto del consumo di suolo, eccetera, e sappiamo che comunque la giunta green di Milano, da questo punto di vista, magari non ha molto margine di manovra, perché appunto, come ci dicevi, ha a che fare più con una cornice regionale. Però diciamo che non sta facendo benissimo. Penso alla questione di Baiamonti. Alla fine poi dico, e se ci fosse la destra, che non si, comunque, non passerebbe come giunta green, cosa succederebbe a Milano? Che ci sarebbe probabilmente meno posizione, anche meno posizione interna da parte della sinistra, che secondo me è ancora molto tiepida, ecco. Cioè sullo stadio San Siro, che mi sembra, insomma, l'emblema, no, un po' della modalità della gestione Milano, al di là del fatto che, almeno dal mio punto di vista, bisognerebbe fare un'analisi delle società calcistiche, ma qua ci perderemmo per un'altra puntata. Cosa che i comitati spesso chiedono, diciamo, ma vediamo prima di tutto chi chiede, chi vuole costruire, chi sono questi soggetti. Esattamente, e poi soprattutto ci vogliono dei piani, vogliamo veramente avere tre stadio in città, due, questo stadio è veramente recuperabile. Poi capisco, perché sono usciti, insomma, numerosi report e documenti, e alcuni ci dicono anche che costruire un nuovo stadio costerebbe meno rispetto alla ristrutturazione di San Siro. Ok, però quale altro tipo di costo? Bravissimo. Vai. I famosi costi e benefici. I famosi costi e benefici. A volte devi fare cento pagine di costi e benefici. E poi forse, quando parliamo di costi, dovremmo smettere di parlare solo di euro, ma ci sono dei costi che non sono quantificabili in euro, ma sono i costi sociali, i costi ambientali, i costi altri tipi di costi. Tra l'entresi, quando si parla di sostenibilità, spesso si tira in ballo tutta quest'altra sostenibilità. Allora perché non farlo anche, quando parliamo di queste situazioni. Una piccola pausa ancora perché facciamo un po' di musica. Qui ovviamente su Cristal Radio facciamo informazione, politica quest'oggi, Masieri che si propone come prossimo sindaco della città di Milano, in contraposizione con la giunta sala. Quest'oggi abbiamo scoperto questa cosa, ma soprattutto anche tanta tanta musica e loro suono i Tiro Mancino. Ieri che giorno era? È domenica. È infatti domenica. Tiro Mancino, 8.41, Cristal Radio. Tiro Mancino, domenica, Cristal Radio, 96.2 FM, Dub Plus e anche app per iOS Android, sito internet. E se volete rivederci, riascoltarci, ma subito rivedere l'intervista con la nostra ospite di quest'oggi, Federica Valcauda, potete vederlo sul sito e sul YouTube e Twitch di Milano News. E tanti contenuti social, pochi minuti dopo la dire. E tante salute a tutti. E tante care cose. Tante care cose. Quando arrivi, scrivi. Prego, Lorenzo, so che volete parlare per una volta di tavoli in cui non si mangia. Stranamente non parli di tavoli in cui non si mangia. Esatto. A questi microfoni spesso si parla di cibo. E invece quest'oggi noto. Oggi no, si parla di tavoli di discussione, giusto Federica? Allora, non sono propriamente tavoli di discussione, perché sono più che altro tavoli di raccolta firme, dove però ovviamente la cosa interessante, estremamente interessante, è che quando le persone si fermano, si hanno dei dibattiti estremamente interessanti, nel senso che sono misurati sulla realtà delle cose. Ed è una cosa che credo alla politica manchi molto, il misurarsi con la realtà. Quindi sul nostro sito, sia su Facebook, su Instagram e su Twitter, potete vedere ogni giorno dove noi saremo a fare i tavoli di raccolta firme. Oltre alle sei proposte di legge di cui parlavo prima a livello nazionale, stiamo raccogliendo anche le firme per la proposta di legge regionale in merito all'eutanasia che ha fatto l'associazione Luca Coscioni. Noi gli stiamo aiutando a raccogliere queste firme. Credo che sia estremamente importante fare questo gesto democratico, nel senso che indipendentemente da tutto apporre la propria firma su quelli che sono documenti che possono permettere di aprire dei dibattiti che al momento non esistono nel nostro Paese, credo che sia una delle più alte forme anche per onorare quel conoscere, per deliberare, che a noi sta particolarmente a cuore. L'iniziativa popolare, secondo me, è la più alta forma di democrazia. Va bene. Mi piace oggi così, preso bene, schierato per la democrazia, va bene? Ma certo, ma scusami. La democrazia cos'era la peggiore soluzione che abbiamo, ma è l'unica che abbiamo? Com'è che era una roba del genere? È quella di Ciorci. È la peggiore forma di governo, tranne tutte le altre. Era Ciorci, ma anche Emma Bonino lo dice spesso. E Fabio Ranfi l'aveva un attimo rimaneggiato. La democrazia facqua, ma è l'unica forma che abbiamo. Però, alla fine, fa sempre piacere. Perché comunque coinvolge. Adesso noi ci lamentiamo, appunto, guardiamo i dati di Monza. E l'affluenza, tutte le volte, siamo in calo da sempre ormai. Allora, il calo più importante, secondo i dati, arriva ovviamente post-Tangentopoli. Dal 1992 c'è stato un calo importante, in particolare negli ultimi due anni. Porta un dato, però, che fa capire come invece quando la situazione politica si fa invece interessante e magari con dei contenuti, la gente invece va a votare. Perché, ad esempio, un paese come gli Stati Uniti che sono sempre stati in caduta libera quando c'è stata la grande sfida con Trump, beh, invece lì c'è stato un grande rinalzamento delle persone che andano a votare. Perché si sentiva il bisogno, e soprattutto anche in certe fasce, di andare a votare. Poi è andata come è andata per quelle fasce che sono dicendo di andare a votare, però nel senso... Però si alza, vedi, quindi... E pensate che non siamo gli unici, perché io sono stato... Ve lo raccontavo qualche settimana fa a Lorenzo, lo dico anche adesso a Federica, ero in Svizzera qualche settimana fa, e in Svizzera si stanno lamentando il fatto che la gente non va più a votare. E se anche gli svizzeri si trovano in questa situazione, siamo nella stessa barca, ma insomma... Questa cosa però la trovo veramente strana, perché loro hanno anche un processo referendario estremamente interessante. Parlando con dei colleghi di Teleticino dicevano forse troppo, a volte. Cioè siamo arrivati a un punto in cui ci chiamano in tre per due a chiedere cose e poi alla fine la roba non cambia. E quindi ci sembra poi la cosa opposta. Perché poi soprattutto dicono, perché poi, come dicevi tu prima, alle azioni popolari bisogna poi seguire l'azione politica e quella a volte manca. Quindi alla fine dobbiamo sempre ricordarci che il nostro dovere è anche scegliere le persone giuste proprio per cercare di far sì che poi quello che vorremmo che succeda possa succedere. E magari con il maggioritario e la riconoscibilità del candidato... Eh, questo è un argomento estremamente interessante. Ormai c'è la piattaforma politica di Lorenzo Masieri. No, ho fatto anche la tesi su questo. Sono molto sensibile. E pensate, tutto questo partendo dall'alberghiero. Vedi, come si può cambiare nella vita e come tutto e tutto può portare a fare un buonissimo piatto alla fine, anche a livello politico. Siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati a Dijano? Eh sì, è vero. Eh sì, sì, di già. Sì, di già, di già. No, quella volta perché ho avuto due orologi che non mi tornavano al punto. No, non è vero, abbiamo ancora un minuto e cinquanta, scusami. Ah, così proprio. Sì, sì, ho sbagliato a leggere io. Questi sono gli effetti del cambio d'ora. Sì, sì, può essere. Sì, anche può essere. Abbiamo ancora un minuto e cinquantasei. Un minuto e cinquantasei che usiamo Federica per chiederti appunto le coordinate per seguire appunto ciò che fate e stare informati. Allora, le coordinate, ovviamente i social, il nostro sito radicalimilano.com, tutti lunedì sera alle diciannove noi ci ritroviamo nella nostra sede ad Affori in via Brusuglio, settanta. Quindi facciamo, insomma, delle riunioni politiche, riunioni organizzative in base ovviamente a cosa facciamo durante la settimana. Domani, pioggia permettendo, saremo in piazza San Babila a raccogliere le firme e a denunciare il fantasma della democrazia, così, insomma, lo chiamiamo, visto che è Halloween, ci facciamo trasportare dai fantasmi. La democrazia effettivamente in questo paese è un fantasma, quindi domani porteremo in piazza per sei ore tutti i dati relativi a questo sgretolamento democratico che sta subendo il nostro paese. Mi indicavi il computer, credo perché tu hai visto il Whatsapp che è arrivato? Il Whatsapp, sì. Eh sì, sì, 33178-5355 che ricordiamo sempre che è mio perché quindi non ci vede fino al monitor. Arriva un messaggio da Katia che dice buongiorno, un saluto a tutti, grazie mille per la musica e soprattutto le info politiche e sociali che ci state dando. Ben, grazie. Avete fatto contento Masieri quest'oggi. E grazie all'ufficio programmazione che invece mette la musica sempre alla nostra scaletta. Sì, 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 sì. Interessante comunque questi qui, soprattutto il fatto di avere dei dati. Ecco, mi piace questa idea di partire non da un sentito dire, non da un sentiment come fanno altri, ma da dei dati veri e propri che dicono che cosa. Se riusciamo magari in un minuto a dare... Sulla questione democratica. Sì, sì, sì. Ovviamente sono dati che abbiamo costruito in questi anni. Quindi ad esempio se guardiamo le elezioni europee del 79 è andato a votare l'85% della popolazione nel 2019 è andato a votare il 55% della popolazione. Nelle elezioni del 1989 prima di Tangentopoli l'82% andava a votare l'anno scorso nell'arco di poco più di 20 anni anzi, 20 anni... No, 30. 30 anni ormai. Sono già 30 anni. Che ansia. Ogni riferimento a persone in questo studio sono puramente casuali. Puramente casuali. e quindi appunto l'80% andava ancora a votare nell'89 l'anno scorso è andato a votare appena il 63-64% delle persone. Quindi questa insomma mancanza anche di volontà di informazione che noi vediamo anche parlando con le persone per strada perché la risposta immediata è a che cosa serve ci hanno deluso tutti. Questa è... Giusto. Mi ha anticipato perché stavo dicendo soprattutto a chi dice sono tutti uguali. Può anche essere vero ma sono tutti uguali perché non vai a votare. Io proprio ve lo dico così anche spudoratamente. Anche questo è vero. Spudoratamente. Credo che però il punto democratico quello che diceva lui rispetto al maggioritario e alla legge elettorale sia un grande dibattito che questo paese deve aprire perché le responsabilità devono essere chiare e in questo paese le responsabilità non sono mai chiare. Mai. bravo Masieri hai visto c'è già un posto pronto per le prossime elezioni supplettive al Senato se vuoi proponiamo Lorenzo Masieri siamo fuori dalla parco di Dio possiamo farti campagna elettorale questo è vero vengo con le bandiere domani vengo con le bandiere o con gli astucci no niente astucci grazie mille Federica grazie a voi io la rivolgo con ospite te lo dico mi piace parlare di questi temi e lo fa in maniera proprio interessante poi mi spiace che basso un po' il livello io soprattutto basso un po' il livello ma non è assolutamente vero però grazie mille davvero Federica Associazione Enzo Toto Radicali Milano grazie grazie a tutti grazie a tutti